Due cose prima di iniziare il video Uno, questo video doveva comprendere tutte e due le settimane dello spettacolo però con solo la prima settimana di spettacolo già siamo arrivati ad un video piuttosto lungo quindi la seconda settimana più lo smontaggio verranno messi in un video successivo Seconda cosa, perché quindi il video esce di martedì visto che avrei dovuto far uscire il video di martedì apposta per includere anche lo smontaggio esce di martedì comunque perché non ho proprio materialmente avuto il tempo per montarlo prima quindi voletevi intanto questa prima settimana Mercoledì 11 luglio, sera della generale e tanta tanta roba da fare Andiamo Mentre gli attori sono in teatro a prepararsi io sono al castello ad aspettare che mi venga dato il segnale per accendere tutte le luci questo segnale sarà una chiamata al mio telefono con la mia suoneria che è proprio data all'occasione perché questa è arrivata la chiamata non si vede niente corriamo a fare tutto quello che c'è da fare Sì già Oh Rischio morte Giuppa 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 Ho deciso che per la chiamata di inizio spettacolo sarò ogni sera una suoneria diversa sempre adatta all'occasione vediamo se riesco a trovare abbastanza per ogni sera e adesso andiamo a spalmarci un pochino sull'erba e a diventare verde come le anime che vivono con Ade e che cercano di uccidere Hercules Ciao Vabbè ragazzi Non gli toccate la testa Non gli toccate la testa Non lo so Anche la merda Vai E poi ti tocca il curo ATTENTA, UNO, DUE, TRE, META, META, META! E' ARRIVATA LA CHIAMATA SAZIO JUFFA, IL CENTRO DEL MONDO, DOVE SI TROVA? IL CENTRO DEL MONDO SI TROVA LÀ DOVE MI ASINO CHE APPOGGIA LA ZAMBA E SI NICHO! SAZIO JUFFA, IL MAGULAR VE RIABOLITARIO, SUFFERVANIA! LE AVERRIVATA ED SENTI, LA HUGULAR STAFF, PIANOSO! ANNO RIZZ, PUNTEER, REVOLAME! L'KAU, NENKAOL WHO AVA electrical EARLI, RIABOLITARIO, HOSTLE SUFERENTO, PUNTEERTE, ALDIGRE VALERE A NOMINATO, DOVE SI TROVA, IL CENTRO DEL MONDO VAGO, A CENTRO BANEL, DOVE SI TROVA TEN IN TEREMENTI E DEL FOLCIO. A MIZINATE, RIABOLITARIO, SON DOVE SI TROVA, I MIZINATE, RIABOLITARIO, si affacciavano a guardare due e scaricare il carretto Vieni, 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 vieni Guarda la mia forza non serve Vieni, è più la tua ciasca, sai Ah, lo so, lo so La porta un zinni vini La porta un zinni vini? Ma manco te sei licitato a tirare via la porta? Ma io guarda, eh Ma è sta minchia di forza È stato quell'altro giufà, va bene uguale Mi sovrastava Giordano stasera E a me piaceva Come mi sembra troppo alleluia di Leonard Cohen E poi si fa così E vuoi così E vuoi Si vuoi? Si su di Andrè proprio È arrivata la chiamata Mi sembra Mi sembra Mi sembra Mi sembra Mi sembra la troia ha capito ha cappellato la scena fortuna che Matteo che dovrebbe essere l'esordiente invece gli ha sparato il culo le gole si chiamano in mezzo alla protesta così c'è bisogno di molta acqua anche questa finirà in trochi minuti ma va bene così ritornerò qua a riempita e poi tornerò ancora ti do anche mezza caramella mezza caramella per cosa? ti senti? un pezzo di pane ormai siamo andati bene diciamo che siamo stati meglio in assoluta dal pubblico niente siamo meglio di voi e di tutti gli altri ma noi qual è il giocatore? a me mi hanno detto delle cose che invece dicono tutto l'opposto che dicono? e così mi hanno detto non sono venuto a dipido perchè non voglio mettere pressione ci mancherebbe io quasi ci credevo come sempre oggi mi sono incantata a sentire la lupis e il pipo è vero mi sembra tutti gli altri giorni in opera ha andato solo uno e l'aveva da la placa cioè Giordano mi ha rubato il caffè non ci crede? non ci crede? non ci crede? non ci crede? ti sveglio io non ci crede? guarda 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 città guarda guarda per questi vasconi ma presto l'uno e mezzo die sei io io ho mai prestato? io ho ripreso 10 e 11 adesso quando finisce a domani ciao ciao pippa sento parlare di vasconi lì dietro grazie Non si! Non si! Non si! Alle, tutti fermi Stale Allora Ammuni Le scarpe ce l'avete Allora Ammuni C'è qualcuno che ti comprende Io se mi dicessi Ammuni e Basso non lo capirei Allora Ammuni Inizia la missione Inizia la missione Ehi! Ehi! Inizia la missione 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 E questa cosa non è a parte niente loro Si sbagli, ecco ho fatto una storia L'uva e la luce Iscrivetevi e non vi perdete i prossimi video Arriverà presto la fine dello spettacolo di Giuffa Ci vediamo presto, ciao! Ehi!